C'è diva, ci stanno tutti quanti. Comunque, come sta il whisky? Aiuto! Quando parte in Riva, anche a casa, lo sai che i divani si spostano di un metro e mezzo, sposta tutto, butta tutti in armi. Piano piano, Riva, siamo sulla strada. E lei parte, la prima volta che l'ho vista correre ho dovuto chiedere la vetrina e mi sembra che qualcuno stava fuori. E' contenta e esplode la sua contentenza così. Adesso mi sto riprendendo un po' tutti. Ma ecco qua, ti ho dato cucciolura. Ciao, ciao mio figlio! Ciao! 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 Ciao i primi sunnitoli! Ciao a tutti. Ciao a tutti! Vuoi arrivare? Perciò essere intrusive.